Il campionato per gli impegni delle nazionali giovanili, la primavera atalantina, reduce dal pareggio interno contro il Genoa, ritornerà nuovamente in campo sabato 18 novembre contro la Lazio. Due settimane di tempo quindi per preparare la sfida contro i Biancazzurri e per l'allenatore Massimo Brambilla sono 15 giorni utili per lavorare, migliorare e crescere ulteriormente. È soddisfatto il tecnico Nerazzurro. Dopo otto giornate la sua squadra è al primo posto in classifica con 17 punti davanti a Inter e Milan. È in serie utile da sette partite, ha il miglior attacco in assoluto e la miglior difesa insieme a Inter e Torino. Noi dobbiamo lavorare sulle nostre cose, sul nostro modo di giocare, sul miglioramento delle lacune che abbiamo. Sicuramente saranno settimane dove ci alleneremo bene. Molti andranno in nazionale, giocheranno, però sicuramente saranno due settimane dove ci alleneremo e cercheremo di mettere dentro quello che ci serve. Sono soddisfatto delle prestazioni, dei risultati, del clima che si è creato con il mio staff, con la squadra. Insomma abbiamo posto le basi per poter far bene ancora da qua a fine anno. Poi chiaramente per ottenere risultati importanti, per vincere le partite serve anche un pizzico di fortuna che probabilmente in questo momento non abbiamo avuto. Ma quello è il meno. Ripeto, i risultati li guarderemo a fine campionata.